Mi dispiace raccontare delle cose tristi, ma quello che accadde in Europa 70 anni fa è anche questa, è qualcosa che non possiamo dimenticare. Perché non possiamo dimenticarlo? Perché il male che in quel tempo afflisse milioni di mamme e di figli, quel male noi vogliamo che non torni più, nessuno vuole che torni il male. Ma come se uno va a letto con una malattia, vuol guarire e non vuol più riammalarsi della stessa malattia, quindi prende del medicino. Allora per combattere quel male del quale io vi parlerò, ci vuole la medicina, vuole la medicina ricordarsene. Ma non sto scherzando perché bambini come voi, a milioni, sono stati uccisi. Attenzione, non soltanto delle persone grandi, ma anche dei ragazzi. Per quanto riguarda l'avventura di cui vi parlerò, i bambini che sono stati uccisi sono stati un milione e mezzo. Riflettete, un milione e mezzo.